Il Parlamento è il luogo che legifera e governa la Gran Bretagna da secoli. Possiede un fascino tutto particolare, la sua figura si staglia elegante sulle acque del Tamici, incutendo un rispetto reverenziale al visitatore verso le istituzioni di questo paese. L'edificio fu costruito a partire dal 1840 dopo che un incendio distrusse l'edificio precedente, lo stile gotico fu concepito da Charles Berry con l'aiuto di Pagli. La tradizione parlamentare, fatta di una serie di cerimonie molto antiche, furono pienamente rispettate nella ricostruzione. La regina o il monarca del momento arriva in carrozza per apparire ogni nuova sessione del Parlamento, di solito nella seconda settimana di novembre. D'estate il palazzo del Parlamento diventa molto affollato di turisti e la zona trafficatissima con una moltitudine di auto, taxi neri e autobus rossi che tentano di attraversare Parliament Square. Il palazzo del Parlamento contiene una delle torri campanarie più famose del mondo, il Big Ben, che suona le proprie campane ogni quarto d'ora scandendo il ritmo della città. L'orologio della torre è illuminato quando la Camera dei Comuni è riunita in sessione. In origine il nome Big Ben si riferiva solo alla campana più grande tra quelle presenti, che pesa la bellezza di 13 tonnellate. Il suo nome fu preso in prestito o dalla persona che la commissionò, Benjamin Hall, o dal popolarissimo pugile peso massimo dell'epoca, Benjamin Count. Grazie a tutti.